Buongiorno, sono Maria Teresa Di Sirio, conduttrice del TGLT4 Blog Ultima Ura. Passiamo alle notizie. Annone Veneto, incendio a un'auto nel box interrato, donna bloccata in casa portata in salvo dai vigili del fuoco. Grande spavento nel cuore della notte per una donna residente in via Sant'Antonio ad Annone Veneto. Poco dopo la mezzanotte, un'auto ha preso il fuoco all'interno del box interrato di una piccola rimessa, composta da due attività strutturata su due piani per otto appartamenti complessivi. A caso del fumo generatosi dall'incendio, però, una donna è rimasta bloccata nel proprio appartamento. Dopo la chiamata, ai soccorsi, si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco, arrivati da Porto Gruaro, Motta, Livenza, Mestre e Pordenone, con due autopompe, una autobotte, due autoscale e 16 operatori. I pompieri hanno portato in salvo la donna attraverso la scala italiana. Contemporaneamente, sono iniziate le manovre per domare il rugo, a cominciare dall'auto all'interno del garage ed evitando l'estensione del rugo alle due palazzine. Sul posto, a scopo cautelativo, è stata fatta arrivare nel frattempo anche un'autoambulanza del 118. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, anch'essi intervenuti sul posto. Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco si sono terminate questa mattina alle ore 6.30. Il garage è stato posto sotto sequestro. Caorle, l'11 luglio, la consegna della Costituzione italiana ai neo-18 anni. In questi giorni, l'amministrazione comunale di Caorle invierà a tutti i neo-18 anni residenti nel comune di Caorle una lettera del sindaco di Marco Sarto, per invitarli a partecipare ad una giornata di celebrazione a loro dedicata, che si terrà giovedì 11 luglio nell'ambito del Caorle Suonica Festival, contenitore di concerti ed eventi teatrali e non, dedicati in particolare alla popolazione più giovane. Il programma della giornata prenderà il via alle ore 17, presso il Parco del Pescature, dove si terrà la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione italiana a tutti i neo-maggiorenni. A seguire, i ragazzi incontreranno i componenti della consulta dei giovani di Caorle, costituita dall'amministrazione comunale, allo scopo di avvicinare le giovani generazioni alla politica ed incentivare la partecipazione attiva e alle scelte amministrative che interessano il comune. Dopo questo momento, i neo-diciottenni avranno la possibilità di incontrare la band BNK R44, che sarà protagonista in serata del concerto, sempre presso il Parco del Pescature, che rientra nel programma del Caorle Suonica Festival. I neo-diciottenni, che parteciperanno alla giornata, avranno la possibilità di assistere gratuitamente al concerto. Di seguito, il testo della lettera è inviata dal sindaco di Caorle, Marco Sarto, ai neo-diciottenni. Carissimi ragazzi e ragazze, diventare diciottenni è una tappa fondamentale nella vita di ogni individuo. Raggiungere la maggiorità non rappresenta solo il compimento di un ciclo anagrafico, ma anche l'inizio di un percorso di autonomia e crescita personale. Questo momento è carico di aspettative, emozioni e responsabilità nuove. Uno degli aspetti più significativi del diventare maggiorenni è l'acquisizione dei diritti civili e politici. Dall'inizio del mandato amministrativo, come amministrazione, abbiamo posto l'attenzione verso i giovani, con la creazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e la consulta dei giovani, oltre al progetto Caorle Educazione. Nell'ambito del progetto musicale Caorle Sonica Festival, rivolto in maniera principale al pubblico dei più giovani, abbiamo pensato di organizzare una cerimonia speciale in onore dei nei dici ottenni, per celebrare il vostro ingresso nella vita adulta ed il conseguimento della cittadinanza attiva. L'evento si terrà l'11 luglio 2024, alle ore 17, presso il Parco del Pescatore, con ingresso gratuito al concerto dei BNKR44. Durante la cerimonia, ogni neodici ottenne riceverà una copia della Costituzione italiana, simbolo dei diritti e dei doveri che accompagnano ogni cittadino nella nostra amata Repubblica, e avrà la possibilità di conoscere la consulta dei giovani di Caorle ed incontrare la band. Questo momento rappresenta un'importante occasione per riflettere sui valori fondati dalla nostra nazione e per avvicinarci con consapevolezza e responsabilità al ruolo di cittadino attivo e partecipe nella comunità. La tua partecipazione è per noi molto importante. Ti invitiamo quindi a confermare la tua presenza entro il giorno 8 luglio 2024, contattando l'Ufficio Segreteria Servizi Sociali al numero 0421219263 o inviando una mail a serviziossocialichiocciolacomune.caorle.ve.it Confido di vederti alla cerimonia per celebrare insieme questo importante traguardo, con i migliori auguri per il tuo futuro. Il sindaco Marco Sarto Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e vi aspetto al prossimo TG. Buona giornata!